Finti operatori del gas in azione ieri mattina nella prima periferia di Treviso, bersaglio, due anziane. Il primo episodio alle 11.45 con una novantenne che ha chiamato la polizia dopo che i due finti addetti le avevano suonato alla porta con la scusa di una fuga di gas nel quartiere, odore che effettivamente l'anziana avvertiva e anche molto forte. Metta i preziosi in frigo, saranno al sicuro in caso di scoppio, le hanno poi detto. Risultato? Monili in oro spariti con la pensionata che non ha potuto fare altro che avvisare del raggiro la figlia. Un paio d'ore dopo la truffa è stata replicata poco lontano. Una 78enne che si trovava con i fratelli in giardino è stata avvicinata dai due con la scusa di verificare le condizioni delle tubature. Stessa raccomandazione, riporre tutto l'oro in un contenitore in frigo. È identico anche il finale con l'anziana derubata senza accorgersene. Anche in questo caso sono intervenute le volanti. La polizia tornerà a comandare agli anziani massima prudenza, non dare confidenza agli estranei e nel dubbio far intervenire familiari e forze dell'ordine.